La serratura che si rompe, un rubinetto che perde, una caldaia che non funziona, tante volte i cittadini si ritrovano a dover chiamare un tecnico che non è sempre disponibile e che chiede compensi salatissimi. Per garantire una prestazione di massima qualità, tariffe trasparenti, arriva Ok Casa, il servizio promosso dalla Camera di Commercio di Firenze che in pochi mesi ha riscosso un successo inaspettato. È un servizio messo a disposizione dalla Camera di Commercio in accordo con le organizzazioni della rappresentanza tutte, sia quelle artigiane che quelle industriali, per garantire un servizio che sopperisce a quei bisogni domestici che in orari particolari, in giorni particolari, ognuno di noi si è trovato a dover gestire e cercare di risolvere. Questo è un servizio che opera con un servizio di reperibilità 24 ore su 24, sette giorni su sette, con regole precise, con regole prestabilite e con tariffe prestabilite. Quindi la Camera di Commercio di Firenze, essendo ente super partes, ha ritenuto opportuno di offrire questo servizio nel rispetto di principi di trasparenza, di principi di imparzialità. Tramite una chiamata telefonica al numero unico 199 20 18 16, ci troviamo in contatto con un sistema automatizzato a guida vocale che aiuterà il cittadino nella selezione del quartiere e del tipo di intervento. Dopodiché, in base ai criteri di ricerca prestabiliti, il sistema metterà in collegamento diretto il chiamante con l'artigiano che realizzerà l'intervento. Chi è l'operatore? Sono artigiani che antecedentemente hanno data la disponibilità ad iscriversi in un albo particolare della Camera di Commercio e solgiacere a quelle che sono le logiche di trasparenza di prezzo, di correttezza di costo orario, di tutta una serie appunto di situazioni che rendono facile e fruibile questo servizio. In giro di un'ora eravamo già sul posto, abbiamo fatto l'intervento con tariffe chiare, l'utente era già preparato su tutta la procedura da seguire, quindi non ci sono stati i problemi. Formando il servizio ha risposto poi un idraulico, il quale è venuto subito a risolverci il problema e quindi nell'arco di un paio d'ore, giù di lì, all'incirca, abbiamo risolto. Per questo servizio non è dovuto il diritto di chiamata, ma soltanto la tariffa per l'intervento effettivamente realizzato. Tariffa che viene calcolata dal momento in cui l'artigiano parte dalla propria abitazione per raggiungere l'abitazione presso la quale farà l'intervento al momento in cui l'intervento è terminato.